Andiamo! Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra e poi voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Uscire a destra. Uscire a destra. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Un'altra rotatoria prendere la prima uscita. Un'altra rotatoria prendere la prima uscita. Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla rotatoria prendere la terza uscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.